Musica Musica Sono del 67 quindi purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscere Albert Pagani purtroppo no però ho avuto la possibilità di andare a fondo ultimamente forse magari troppo tardi e approfondire il titolo che ha visitato la sua discografia come è stato lui ho letto di lui molto è stato addirittura un poeta un disjockey, un attore ha fatto tante cose mi sono infatuata profondamente della sua grande sensibilità del suo modo di scrivere quindi cosa dire mi sono acquistata un grandissimo cantaatore e ho avuto la possibilità in questo tributo bellissimo che ha pensato di cantare Alberbo Ore uno dei pezzi più importanti di Herbert una canzone che addirittura ho chiaramente letto nel 1970 fu portata David Piaf insomma al grande pubblico quindi poi tradotta e... no, nemmeno tradotta quindi ho fatto questo testo d'Albert addirittura quasi, insomma, da censurare ed è stato una bellissima un piacere poterlo affrontare poterlo cantare un po' un po'